Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video, io sono Kids e oggi andremo a vedere le novità di questo nuovo aggiornamento di Genshin Impact, io non ho aperto gioco finora, ho solamente preso le pull perchè oggi andremo a pullare, non ci saranno troppissime pull dato che avevo pullato per New Milet, quindi vi dico che è una cosa di culo, quindi non so se effettivamente andando a pullare non troverò un cavolo, oppure troverò qualcosa, vi dico solo che ho 20 tipiti, quindi non so cosa andando a trovare, però lo scopriremo insieme, allora vedo già una missione disponibile e vedo le due parti nuove perchè io di Fontaine per ora sto facendo il 100%, appena finirò queste due aree al 100% ci farò il video, se ve lo siete persi andatelo a recuperare il 100% di mossa, sto facendo il 100% di ogni regione, ci sto provando, in questo 100% ci sarà non solo l'esplorazione ma anche la reputazione e tutte le missioni, ok quindi ragazzi ci sarà da fare, sarà una pazzia ma la faremo insieme, allora io mi trovo alla Fontana perché ho già dato e offerto tutti i gettoni che avevo disponibili e ora andiamo a fare prima di tutto la prova dei personaggi che voglio vedere meforina, la voglio vedere e la vorrei anche tanto, però vorrei che avessi un po' di culo per una volta nella mia vita e niente ragazzi, allora ovviamente ci sono le missioni, quindi l'arcon quest e altre due quest di Fontaine che sono presenti qui, quindi questa è la maschera della colpa è l'arcon quest, che già dal trailer sembrerebbe che furina, secondo me è una gran strozza, però va bene, però è bellissima, almeno così è quello che sembra, poi c'è ovviamente la sua story quest, c'è la zona nuova e c'è un nuovo boss, io direi di andare subito a provare furina, comunque di stile davvero molto carina, oddio fa le cosi?appedio bemmo ma qui? Ahh vedi stai con gli animalisti, oh fortissimo ma quanto sta, vuoi un Hoover? Vediamo. Ah no, non ha costellazioni. Ha il suo pezzo. Oh, finalmente vedo i suoi manufatti, cioè, veramente. Non posso vedere di quanto sono. La sua arma. Da l'endice all'8, dai, no, è male. Usami, usatemi, ragazzo, ottimo. Ok, fai del bullichino. Ok. Devo comprare un ratino o scopo che non mi ha abilitato? Oh, ma scusami Ah, se tengo premuto... Ok. Facciamo la prova di Baishu, anche se già conosciamo questo personaggio, non è un attaccante, ma un supporto. Un'attaccante. Io non so usare l'isola. Un'attaccante. Un'attaccante. Lo so che voi state aspettando che io provi a fare la mia pull, però un attimo solo perché voglio provare anche Charlotte, la nuova, il nuovo personaggio. E fa le fotografie bellissime. Allora, vediamo che cosa gli hanno dato. Ok, gli hanno dato il libro di Nubilet. Certo sia questo. Poi, all'ottanta... I manufatti hanno usato quelli lì. Come... Come femmina. Ah, oddio, che fa? Li blocca? Ok, lei va a lì al parco carico. E' particolare. Vediamo come un cifo. Ah, ok. Fa un areato che... Ok, non è malo. E' particolare un'attaccante. E' particolare un'attaccante. Hard-hitting exclusiva. Body and mind. Daddy break it! Grazie a tutti.